Eccoci ragazzi, parliamo oggi di dxbinteract.com, il sito web realizzato da FAM Properties. Cosa mostra questo sito web e perché è importante? Con una registrazione gratuita vi mostra tutti i dati delle transazioni immobiliari che accadono ogni giorno e sono aggiornati giorno su giorno perché questo sito nasce da un accordo tra la nostra azienda e il Dubai Land Department, il DLD. Quindi mostra tutti i dati reali registrati ufficialmente al DLD relativi a affitti, vendite, vendite commerciali, vendite residenziali, plot, off plan, secondary market. Avete tutto. Perché è importante? Perché quando voi come investitori ma anche come end users, come utilizzatori finali, quando fate un acquisto dovete sapere assolutamente in anticipo cosa state andando a comprare e se state comprando a valori di mercato oppure a valori che sono superiori al mercato. Quindi vi dà le indicazioni esatte del trend, dei prezzi a metro quadro e dei vari prezzi medi delle aree che ci sono a Dubai. Un'altra cosa interessante è che avete i rendimenti medi di ogni zona quindi potete sapere in anticipo se volete ad esempio comprare un appartamento da affittare in quali aree il ritorno sull'investimento è superiore. È molto interessante, andate a visitarlo così potete avere decisioni informate. Grazie.